cercate bene ragazzi non facciamoli scappare perché davvero se anche stavolta non riusciamo te ne vai dove cavolo sono finiti i mattoni ho che non lasciarci tutta la vita ah con F potete attivare la torcia anche quindi chi è questo blu? ce n'è uno blu oh dovevo ammazzare quello blu per caso eh si non è troppo fin ecco un'arancia 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 preso preso che ottimo mamma mia oddio no chi è quella bottiglietta? mi sei passato correndo tantissimo no non c'è nessuno se io mi attraverso invece da arancia che è un po' più cazzo che spara se anche io ho sentito uno sparo quindi è vicino attenzione ma perché la mia arancia vola? cioè il super potere è meditaria non sono a terra vola aspetta dove sei? vola l'arancia vola sono qui al mercato dove c'è la frutta no ma se previ un tasto E la tiro in aria non ti trasformi in arancia ah eh certo la stavate ah ecco cioè valendo puoi prendere l'arancia con E e vedi la trasporto va becco diventa la nostra nuova amica sta cosa occhio 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 merda mi ero beccato mi sa dove cacchio merda io sono già cazzo io sono qua dietro non ti beccano lì sotto secondo me sono i due lì ah ha provato a sparare Alex ha provato a sparare con la granata ma non funziona via non ti hanno visto come cacchio è possibile l'invincibile non ti hanno visto è impossibile sono in due lì davanti ma io non so neanche da cosa mi sono travestito che cavolo ho preso l'arancio ah ho preso l'arancia dai ce l'ho davanti mi sa che non ti becca eh io correrei vediamo dai 10 secondi sono andati via dai 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 che sta in nascondiglio del secolo eh no mi sa che non ce la fanno yeee ho vinto sulla sedia sei mossa eh dove? uh preso chi cacchio è vai che tavola è vicibile chi era? era era vip ahahah abbiamo mutilato tipo devo fare un super salto che non riesco a fare il prossimo lo uccido tirandogli una pc mia mia no mia rubata mia ninca stole my bike mi tiro un forato in testa ahahahah ragazzi ragazzi hai rubato un ninca stole my bike mi hai tolto tutta la vita ma guardate chi c'è qua l'avete visto? no lo avete anche voi questo vero? guardatelo questo fosse in stacca ma è morto male chi è raro ecco dunque casu 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 guarda poi dobbiamo salire qua si c'è grazie grazie di esistere c'è la lattina c'è la lattina c'è la lattina ma non ho capito oh eccomi qui vestito da ma sono lentissimo come lattina no la lattina è lenta non prendetela io apro la porta ragazzi io mi sono vestito da estintore si va travestito da estintore qua dietro ahahah io da radio aiuto aiuto se volete sentire un po' di musica non portarmeli qua mamma mia mi sono sparato a un centimetro sono tornati dietro per quello se magari esplodevo uccidevo pure te ahahah mi sa che mi hanno beccato si mi hanno beccato eh quello che non posso vedere più là cavolo vai nel buco vai nel buco eh nooo ahahah non posso entrare nel buco ci ho già provato prima bene no sei rimasto all'uno ma che cacchia di tico mica introvabile lì dentro eccitare questo io c'è cita cita è trovabile cita madonna sta citando estinguimi spari ovunque ma dov'è che sono a fianco ce l'hai si è a fianco no attenzione pericolo no se n'è andato forse è jacorollo perchè ci sta ahahahah non l'ho trovato nooo andiamo qua sotto va da bottiglie qualcuno vuole un cocktail si grazie eccomi chi è un cocktail no ho fritto ecco qui prego ok cocktail 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 è scomparo sta spaccando tutto sto spaccando tutto sto spaccando qualsiasi cosa ecco prendi al volo Giampierre al volo non mi prendi al volo aspetta vorrei un melatini per favore ma tu sei una donna sei una donna cinese allora scusa scusami allora vorrei un melatini ah cinese volei un melatini sei un melatini sei un melatini fastaldo un melatini per favore ahahah 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 ma che masola bella donna qua dentro ci sono un po' troppe cose sei tipo strapieno di roba qua eh ah sta roba è pieno z ma si può anche ma si può anche scendere lo scantinato oh mio dio nello scantinato si può scendere oh mio dio è gigantesca sta mappa allora ma è pieno di oggetti mu uno diventa matto eh dobbiamo imparare dobbiamo imparare la mappa memoria diamo fuoco a tutto diamo fuoco ahahah vai buttala lì in mezzo vediamo se esplode questa è benzina io mi do fuoco no non esplode ti toglie vita e basta ahahah no non posso prendere il fucile le cose più piccole sono anche più lente non so se avete mai ma vai dov'è che siete andati io sono ancora qua ecco ti vedo ti vedo sto seguendo allora vediamo un po' dove stai andando se si sale da qua allora seguitemi un attimo sono il cono ok il cono gigante no è dilato psycho sei morto sei morto sei te da qua no merda così ci beccano vabbè io salgo qua e olè olè vai allora se stiamo fermi qua io penso abbiamo vinto no non sono caduto ok siamo qua buono così perfetto io sono la mia camuffata no secondo me secondo me questo è un posto ottimo secondo me speriamo adesso vediamo se ci beccano bene mentre possiamo fare tipo non lo so freestyle ecco qualcuno è caduto facciamo parkour possiamo fare parkour tra gli scaffali effettivamente volendo no sono caduto merda aia sento sparare ok non hanno beccato mai quindi posso ancora farcela ho notato una cosa ho notato una cosa ho notato una cosa l'ho tornato ah io penso di voler stare qua per se chi è quello a fiancami che sta girando io ciao ciao la tannica di benzina è di qualcuno no ciò a vista ciò a vista guarda che c'è chi è quello sotto di voi speriamo che nessuno si accorga di noi qua aia corolla esatto e se restiamo fermi guarda che spara a tutti quelli in alto adesso adesso sopra di voi no no stanno sparando a qualsiasi cosa no sta salendo oddio fermo no fermati fermo tolgo le mani anche dal mano non riesce a colpirmi non riesce a colpirmi fermo 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 beh se solo mi spara io scappo giù a sinistra si si fatti buttare giù magari si sbaglia ti buttare giù cadete un calcio sta buttando tutto magari cade anche lui immagini adesso cade oddio 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 b start vai appena passa a sinistra via scappa giù dall'altra ok vai via 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 rodo mi sera decattato mi saremo decattato che direi vado a pietà voglio una birra devo prendere il treno via 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 haahi Siamo il bloc note E andiamo sopra Allora No non si può salire le scale Aspetta qua Si qua si dovete seguire la ringhiera Tipo no ma poi cadete Da qua la ringhiera sul muro Ma io ce l'ho fatta Ringhiera sul muro Qua vista su questa ringhiera Il bello che essendo piattissimo Non ti vedono Dove andiamo No aspettate Allora se mi ricordo come si esce fuori C'era un posto che era micidiale Dove nascondersi Si nel giardino No 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 Bastardo via via Esci 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 Oddio Oddio ho visto Quello dove mi sono infilato Oh no Sotto gli scaffali esatto Era un'idea Non mi ha visto Mi ha passato sopra Non mi ha visto Spero No no occhio occhio Scappo scappo Sotto gli scaffali Sono sotto gli scaffali Cheater malavaga Stanno sparando come se non ci fosse un domani Ma non ci arriveranno mai Sei tu Masa Ah dobbiamo trovare il modo di uscire fuori Aspetta ce n'è ancora uno fuori Sembra che ci siano gli zombie The Walking Dead Propant Edition Cioè che cacchio è Che nascondendoci da per sbado Ce n'hai uno davanti Fermati fermati Mi fermo sopra il corpo di qualcuno Che c'è qua Ottimo è che sta arrivando Oh Ok Scappa 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 È sceso Sì Vado 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 Dimmi che posso salire qua sopra Dimmi che posso salire qua sopra Sì 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 Sei introvabile là Aspetta aspetta Non ho finito Sinciramente Olè Oh là Introvabile Salve Buonasera Ok Da qua posso anche vedere tutti Perfetto Kazoo Cheater Abilitato Oh Puoi vedere anche la giù nell'angolo Sì Volendo posso andare anche qua in fondo Tipo Aspetta Se non cado Forse cado Aspetta Ok Uno Due Olè Olè Evviva Ve l'ho visto? No No Olè sono tutti all'interno sarò il re delle ringhiere da ora in avanti è impossibile che vi trovano olè siete tutti e due all'esterno e gli altri stanno cercando tutti all'interno ma anche se oddio stavo per cadere ma anche se cercano qua fuori sono ancora più su che bello che cacchio è quell'altro ce ne sono tre che roba impossibile bene ho vinto grazie a tutti me ne vado a mangiare qualcosa ciao ok mica distrutti ciao ciao